Musica Portiamo a Sharper la nostra attività di laboratorio che appunto eseguiamo nel laboratorio di idraulica del nostro dipartimento e facciamo vedere alla popolazione che oltre agli esperimenti laboratorio il nostro lavoro è anche in ufficio attraverso l'utilizzo di simulazioni numeriche e con le quali proviamo a riprodurre il modo tondoso e la moltitudine di fenomeni che è presente all'interno del mondo che si chiama mare